Siamo giunti davanti al centro culturale polivalente di Alfonsine, polivalente appunto perché racchiude davvero un sacco di cose, giusto Darla? Sì, ci sono molti servizi all'interno di questo edificio. Io partirei da questa parte. Allora, noi abbiamo il Cinema Gulliver, abbiamo il Museo della Battaglia del Segno dietro di noi, il Centro, l'Archivio Storico, la Biblioteca, il Museo al Primo Piano e abbiamo l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea, quindi la sede centrale dei servizi culturali alfonsinesi per la cittadinanza e per il turismo ed è anche ovviamente un punto cruciale di studio su un'epoca importantissima e significativa per il nostro comune che è stata la Battaglia del Segno, quindi la Resistenza. Quali sono Darla le iniziative prossime per la commemorazione alla liberazione? Allora, il 10 aprile 2009 è un anno in cui abbiamo investito moltissimo dal punto di vista culturale per le iniziative della liberazione. La festa di liberazione per Alfonsina è la festa del paese, è un momento di grande partecipazione popolare, quindi l'amministrazione si impegna ogni anno a rendere il calendario sempre più importante, sempre tenendo conto di quello che è la memoria storica di questo paese. Quindi noi avremo le celebrazioni ufficiali la mattina del 10 aprile, una mostra importante che quest'anno si svilupperà sia nella sala espositiva di questo museo, ma anche in un'altra sala espositiva nella parte vecchia del paese, quindi a Palazzo Marini, della pittrice Eva Fischer, pittrice ebrea. Una mostra particolarmente importante, dislocata su due sedi, quindi ci sarà un'antologica in questa sede e nella parte di Palazzo Marini una parte dedicata a pitture fatte durante una detenzione in un campo di concentramento. Poi da qualche anno facciamo un grande investimento estremamente importante per avvicinare i giovani, i ragazzi alla festa di celebrazione, quindi quest'anno faremo il 25 aprile per questioni legate alla Pasqua nella giornata intorno al 10 aprile, quindi l'abbiamo spostato un pochino in avanti. Un concerto importante, l'anno scorso abbiamo avuto i nomadi, quest'anno faremo il concerto di Daniele Silvestri, quindi un momento molto bello, in cui la piazza si riempie di ragazzi giovani intorno alle tematiche della resistenza. Quindi un sacco di occasioni per poter venire in visita ad Alfonsine e a questo punto diamo la linea a Maurizio, che si trova all'interno di questo centro culturale in compagnia di Antonietta, appunto per approfondire quello che è il Museo del Segno. Eh sì, sono qua all'interno di questo Museo della Battaglia del Segno in compagnia della direttrice Antonietta Di Carluccio. Buongiorno Antonietta. Un museo straordinario che ci fa ritornare indietro nel tempo alla Seconda Guerra Mondiale. Seconda Guerra Mondiale, sì, questo museo in realtà è nato nel 1981, però la storia che racconto è proprio quella dell'ultima fase della Seconda Guerra Mondiale. In questa zona il fronte è rimasto fermo molti mesi, da dicembre ad aprile, e ha portato delle trasformazioni notevoli. Il museo dà conto di quel periodo, in effetti. Ecco, un museo che è stato veramente curato nei particolari, Antonietta, io sono rimasto attratto subito da questa immagine che abbiamo qui alle nostre spalle e ti chiedo di spiegare naturalmente cosa rappresenta, cosa volete dire a chi viene qui al museo. Sì, questa è un'immagine fatta di tante immagini, in effetti l'abbiamo messa nell'atrio proprio perché dà conto della storia che racconta il museo. Se guardi troverai tutti i personaggi di quel periodo, puoi vedere i soldati tedeschi, ma ci sono i soldati alleati che si fronteggiavano, ci sono i partigiani, il livello di distruzione enorme che scorge in quella fotografia e una cosa a cui noi teniamo molto, la presenza dei civili, perché questo museo racconta non solo le vicende militari, non solo dei soldati, ma anche dei civili, di come la loro vita è cambiata e di quanto è cambiato il territorio. Sì, perché l'Alfonsine poi, dobbiamo dire, è stata praticamente raso al suolo a quell'epoca. Sì, ha avuto un tasso di distruzione tale che, tra l'altro, dovendo ricostruire, si è scelto di costruire dall'altro lato del fiume, quindi l'Alfonsine Vecchia era sulla destra del segno e l'Alfonsine Nuova è sulla sinistra. Ed è stata ricostruita, penso, da Giuseppe Vaccaro, che era un architetto razionalista straordinario, anche urbanista, e ha costruito ex novo, diciamo, il nuovo centro. Sì, è una pianta, diciamo, il nuovo centro di Alfonsine. Ecco, un museo che all'interno racchiude tantissime cose, di cui in particolare mi ha colpito la radio, in cui è stata data a quell'epoca, purtroppo, diciamo, la notizia che si sarebbe entrata in guerra, vero? Sì, quella è la radio da cui il 10 giugno del 40 gli alfonsinesi seppero che eravamo in guerra. Ed è, assieme ad altri due oggetti significativi, la macchina per la proiezione cinematografica e una fotocamera da studio. Sono gli strumenti con cui nel Novecento si faceva, si divulgavano le notizie, quindi... Ecco, però se tu sei d'accordo, io sarerei nei piani superiori a vedere le due sale, soprattutto per vedere com'è suddiviso, appunto, il museo della battaglia del segno. Ci spostiamo di sopra. Troviamo in una delle due sale, la prima sala del percorso guidato all'interno di questo museo. Mi ha incuriosito questa vetrina. Sì, hai ragione ad essere incuriosito perché se lungo tutta la sala noi raccontiamo la vicenda militare, lo spostamento, quindi hai visto tante uniformi, tanti oggetti militari, qui hai trovato proprio degli oggetti invece particolari. Se li guardiamo insieme possiamo notare che sono tutte cose che gli eserciti hanno lasciato dietro di sé, sono oggetti in metallo, che poi però hanno subito una trasformazione ad opera dei civili e vanno incontro alle esigenze immediate di questa popolazione contadina, ma bisognosa di tutto. Per cui ci sono le casse porta munizioni che lasciate vuote dagli eserciti diventano stufe, diventano necessarie a sminuzzare le barbabietole per dar da mangiare al bestiame, gli elmetti si trasformano in una sorta di mistoloni per lo svuotamento dei liquami, viene riutilizzato tutto. Una cosa curiosissima, se guardi là in fondo c'è il contenitore per la maschera antigas tedesco che con l'apertura di uno sportellino e l'aggiunta di un lungomanico è diventato un oggetto per tostare l'orzo. È un mondo nel quale non vedevamo più il caffè, il cioccolato. Ci si arrangiava un pochettino quindi questo... Sì, ci si arrangiava molto, i civili sono molto curiosi e attenti. Ti faccio notare un'altra cosa, quella lunga canna con la punta in metallo, ecco quello era il metal detector dei civili, i militari avevano il metal detector vero e proprio, i civili sminavano con quello strumento, pericolosissimo. Per cui arrivavano nella mina, sentivano... quindi diciamo l'arte è un po' dell'arrangiarsi, quindi credo che faccia bene anche ai tempi nostri, vedere un pochettino... Considera che alcune cose sono rimaste poi nel tempo di questa trasformazione, infatti se ci spostiamo ti mostro un altro oggetto che può essere riconosciuto da molti, anche se forse non tutti sanno come nasce. Se tu vedi quello è un cancello, ci sono molti cancelli fatti in questo modo, in realtà è la parte finale, quella che vedi con i fori che ci incuriosisce. Lì a fianco c'è un modulo più lungo, ecco durante la guerra a Porto Corsini era stato fatto un campo di decollo ed atterraggio per gli aeroplani, dato il fango e tutto era necessario intervenire in questo modo. Alla fine della guerra rimase tanto di questo materiale, a qualche civile venne l'idea di usarlo per farne cancelli, questi cancelli li trovi in tutta la Romagna. Infatti sono un po' un punto di riferimento, perché in effetti la parte sotto si vede in tantissimi... Adesso se vi guardate attorno li troverete in tantissimi posti. Assolutamente, quindi abbiamo dato una piccola curiosità. Bene, quindi chiudiamo questo percorso all'interno di questo museo della Battaglia del Segno, davanti a questa vetrina, un po' simbolica, che è un po' il simbolo, vero, della nostra terra. Possiamo dirlo? Sì, ma direi di sì, senz'altro, anche perché in questa vetrina trovi degli oggetti chiave, trovi la bicicletta usata dalle staffette e l'importanza dell'apporto delle donne notevole si trova anche in alcune delle immagini che vedi qui vicino. Trovi la divisa dei partigiani, che è la stessa divisa degli inglesi, ma con aggiunto lo spallaccio partisan e il fazzoletto rosso al collo. e trovi anche la pedalina stampa, che è quell'oggetto che servì per continuare a produrre stampa clandestina anche durante... Nelle cantine, ben nascosti, perché insomma non erano tempi facili. No, non erano tempi facili per nessuno, comunque anche qui c'è documentazione fotografica, molti oggetti, alcuni che incuriosiscono molto le scolaresche che vengono qui per... Sì, serve appunto per ricordare. Antonietta, diamo gli appuntamenti quando è aperto il museo, dove si può consultare il sito internet. Sì, allora, il nostro museo è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, e riceviamo molte scolaresche. Nei mesi di marzo, aprile e maggio è aperto anche il sabato e la domenica. Nel corso dell'anno comunque i gruppi possono prenotare, quindi apriamo su richiesta anche il sabato e la domenica. Direi che abbiamo un buon range d'apertura. C'è Antonietta che è fantastica, straordinaria. Quindi vi aspettiamo qui all'interno di questo museo, quindi potete abbinare la giornata al museo con la giornata nella riserva, perché insomma, quindi si può unire benissimo le due cose, quindi sono tutti presupposti per un weekend qui ad Alfonsino. Ti dico un'altra cosa, si può anche venire al museo a giocare, perché abbiamo un gioco di ruolo, segno 1945, che è davvero... Risico? No. No, è qualcosa di diverso, ci mettiamo nei panni di soldati e partigiani, è interessante. Bene, quindi bisogna venire, che dire. Siamo all'interno della biblioteca comunale, sempre all'interno del complesso del centro polivalente culturale, qui con me ancora Darva. Come è articolata la biblioteca e che servizi offre ai suoi utenti? Bene, la biblioteca comunale Pinorioli ha diverse stanze, quindi offre la possibilità di prendere a prestito libri, consultarli all'interno di questa sala, della sala ragazzi, è un servizio estremamente importante, estremamente frequentato dai ragazzi e dagli alfonsinesi. Dicono lo specifico dai ragazzi perché all'interno di questa biblioteca c'è un bel gruppo di studenti universitari e nonna che lavora e collabora con l'amministrazione comunale in maniera costante alle iniziative culturali. C'è un progetto importante all'interno di questa biblioteca che è il progetto di promozione alla lettura dei bambini, quindi l'avvicinamento, il tentativo di avvicinare i bambini e di far capire ai genitori quanto è importante imparare a leggere fin dalla prima infanzia. C'è una sala per i bambini della biblioteca 06, quindi per un target molto piccolo, c'è una sala che tra pochi giorni ospiterà il 10, nello specifico ospiterà un'iniziativa importante, diventerà un piccolo centro di accoglienza per quelle mamme che sono in giro per il paese e hanno bisogno di un angolo appartato, un angolo delle coccole appartato per cambiare e allattare i propri bambini.